Toto non sembra molto esperto nell'arte della fotografia pretende dai suoi soggetti che si esibiscono in un vero e proprio balletto e si stupisce nel vederli rovesciati ma stai sicuro che fosse colpa idippo Tommaso? sempre meno convincente come fotografo sei convinto davvero di essere un tipo in gamba? cosa sta succedendo? sono amici tuoi è impossibile farceli entrare tutti sono amici Può essere anche pericoloso questo mestiere Sorridete, prego Ehi, ma dove sono finiti tutti gli altri? Fatto, grazie In fondo un animo semplice ha bisogno di poco per sentirsi felice Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un numero di alta acrobazia che qualsiasi circo sarebbe felice di ospitare. Hai un avvenire, Totto. Bravo.